Sono sempre io ragazzi, sono ancora io, Gabri Costa, siamo sempre nel settimo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 1. Il nostro zaterrano Reptile deve sconfiggere il generale Shao, ma bisogna fare attenzione perché non è da solo, ha il suo cameo Goro, lo Shokan. Certo che è molto pericoloso il generale Shao quando ha quella sua potentissima ascia. Stiamo sempre vedendo i fuochi d'artificio. E sono stato preso con la Fatal Blow. Ma prima o poi riusciremo a vincere. Vieni qua che ti sistemo io, generale Shao. Bene, finalmente l'abbiamo sistemato. Vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace.